Tre mesi dopo la vittoria contro il Real Giulianova finita al Ditella 3-1, il vasto Girardi torna finalmente a sorridere tra le muramiche. Nei locali non c'è Silvio Mercai per problemi muscolari. Mercai è il capocannoniere del Gironeffe con 14 marcature. Adriatici privi invece di Di Prisco, boccanera preferito a Di Rienzo tra i pali. Martiniello torna al centro dell'attacco. 3-4-3 gli schieramenti scelti da Prosperi da una parte e da Derio dall'altra. Entrambe reduci da inopinate sconfitte nel turno infrasettimanale. Lunga fase di studio tra i padroni di casa in completo blu e gli aragonesi in casacca bianca. Al quarto Guizzo a destra di Minchillo dall'interno dell'area piccola riesce solo a sfiorare guida boccanera in due tempi. Minuto 18 serpentina di Fioretti che manda fuori i giri di Allo. Fallo in area dell'esterno di colore che lo stesso centravanti si incarica di battere dagli 11 metri. Destro chirurgico, portiere da una parte, sfera dall'altra. Vasto Girardi in vantaggio. Fallo da ultimo uomo di Pacciardi sul lanciato Mamona verso Guerra. Per il fischietto Graziella Pirriatore non ci sono dubbi. Fallo da ultimo uomo e Rosso diretto. Spreca malamente Martiniello al limite dell'area. Il piattone Mancino è troppo aperto. Respira il vasto Girardi ma la pressione dei biancorossi è sempre più asfissiante. Salatino insiste a destra. Ci crede piazza un sinistro velenoso che si stampa sul legno. Sulla respinta il più lucido e guida che dà il secondo dispiacere a boccanera. Molisani 2 a 0 al minuto 37. Nonostante gli assalti degli adriatici non succederà più nulla fino al 46esimo. Squadre negli spogliatoi con i locali che rientrano con il doppio vantaggio. L'Avastese si ripresenta nel secondo tempo con Cauterucci esterno di centrocampo per Barbarossa, un difensore. Pralini per Fioretti nei locali. Gli ospiti premono subito sull'acceleratore Mamona. Alla conclusione si oppone con i guantoni guerra. Adriatici vicini a ridurre le distanze. Mamona tra i più attivi al cross sul secondo palo. In ritardo Martiniello per questione di centimetri. Risponde Rauci. Sta filata di sinistro sulla quale nulla può boccanera. Adriatici salvati dal palo. Scampato il pericolo la formazione viaggiante torna a menare le danze in attacco. Al quindicesimo Acunzo prende il posto dell'esausto pesce. Tatticamente non cambia nulla nei molisani. Con il vento contro il vasto Girardi è costretto ad alzare le barricate e rispondere di rimessa negli spazi larghi. Mamona sempre lui. Pescato in area si porta a spasso la difesa avversaria. Palla sul palo ed è il difensore di allo il tapino vincente a porta vuota. Gli aragonesi dimezzano le distanze. Prosperi si cautela. Fuori Salatino per Bruni. Guida è adesso la sola punta di riferimento. I gialloblu sono in sofferenza. L'inferiorità numerica si sente come. Gli abruzzesi attaccano su tutti i fronti. Minuto 34 ancora l'assalto lavastese. Da Martinezza a Mamona ben appostato in area. Destro da dimenticare. Alto. Adrenalina pura. Nel finale Alditella. Il muro di Ruggeri e compagni regge. Gli ospiti danno tutto alla ricerca del pareggio. Nell'ultimo dei quattro minuti di recupero non è abbastanza angolata la rasoiata di Franzese. Guerra c'è salve il risultato. Dopo oltre tre mesi il vasto Girardi si gode il ritorno al successo.